Tempo d'estate Tempo d'estate giornata di grazia diciannovesimo anniversario della canonizzazione di Francesco Forgione meglio conosciuto in tutto il mondo come Padre Pio San Pio da Pietrelcina 19 anni fa già state vedendo delle immagini di quella giornata torrida a Roma con la fotografia ufficiale e ne riparleremo nel corso di questo programma vedete che meraviglia sono tutte persone che stavano quasi abbracciate sicuramente idealmente sia a San Giovanni Rotondo come stiamo vedendo adesso che a Roma in piazza San Pietro Carol Vojtiua grande protagonista grande devoto del Santo tutto questo nel nostro pur breve spazio ma soprattutto andremo a una novità infatti già avete intravisto che ho un libro qui sul nostro punto d'appoggio ma soprattutto il mio punto d'appoggio oggi è Leonardo Fania che si trova proprio nella chiesa San Pio buongiorno a te Leonardo e auguri buona giornata di grazia a tutti noi ciao Maria Pia buongiorno e auguri a tutti i nostri amici telespettatori ci sentiamo di fare questa affermazione perché oggi è davvero una giornata di grazia una giornata speciale è una festa che si consuma però lontana dai numeri delle immagini che abbiamo visto una festa che si celebra nella ferialità di un tempo d'estate ecco come anche si intitola il nostro programma perché tutto ferve anche in preparazione al prossimo anno in cui celebreremo i vent'anni della canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina ecco quest'oggi i frati minori Cappuccini ricorderanno quella giornata quella domenica con una celebrazione eucaristica che nel pomeriggio sarà preseduta dall'arcivescovo di Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo Padre Franco Moscone nella chiesa inferiore che ospita le spoglie mortali di Padre Pio appunto a pochi metri qui da noi la regia dovrebbe anche fornirci delle immagini che giungono in diretta proprio dal luogo della sepoltura di Padre Pio anche se quelle che stiamo vedendo in questo momento sono ecco per un attimo le abbiamo viste sono immagini che ci riportano a dieci anni fa voglio cogliere subito l'occasione per ricordare che quella è stata davvero una giornata dieci anni fa molto molto speciale se la regia ce le ripropone possiamo commentarle insieme perché in questa chiesa il segretario di stato dell'epoca il cardinale Tarcisio Bertone veniva in visita qui a San Giovanni Rotondo accolto dai vescovi della conferenza episcopale pugliese dall'allora arcivescovo compianto Monsignor Michele Castoro arcivescovo di Manfredonia Veste San Giovanni Rotondo per celebrare il giubileo potremmo definirlo così della canonizzazione di Padre Pio dieci anni fa in cui veniva anche radunato il grande esercito di Padre Pio i gruppi di preghiera che poi nel pomeriggio di quella giornata riceveranno in dono il nuovo statuto che appunto li regolamentava il sindaco di allora di San Giovanni Rotondo Luigi Luigi Pompilio salutava il cardinale Bertone e poi se andiamo avanti con le immagini questa processione che da questa chiesa si è recata poi giù nei pressi della cripta nella chiesa inferiore di San Pio per l'omaggio e la preghiera alle spoglie mortali non so se hai qualche domanda Maria Pia io volevo semplicemente riagganciarmi e facevo cenno alla regia perché ci sta bene proprio adesso a questo evento per dare subito la novità che comincia l'anno che poi sfocerà nel ventennale perché si comincia con un libro e voi sapete noi siamo tutti affezionati a San Pio ma anche molto molto affezionati a una conoscenza profonda della sua vita non so se sei d'accordo Leonardo ma adesso è il momento anche di raccontare che è stato appena pubblicato questo libro che è il diario spirituale di Monsignor Valentino Vailati che è stato il presidente ecclesiastico della causa di beatificazione di padre Pio e quello che è bello visto che tu hai citato già diversi arcivescovi importanti e approfittiamo anche per fare gli auguri all'arcivescovo in carica padre Franco infatti compie 37 anni di sacerdozio proprio oggi quindi una preghiera certamente ma anche il nostro grazie e dicevo Monsignor Vailati lo conosceremo meglio attraverso questa pubblicazione delle edizioni padre Pio perché Monsignor Domenico D'Ambrosio ha curato questo diario spirituale dunque voglio semplicemente ricordarvi e leggervi anzi un brevissimo passaggio l'ho sfogliato proprio adesso con voi il libro appena arrivato perché poi sarà presentato ufficialmente il 26 prossimo tra dieci giorni e naturalmente ne riparleremo a fondo proprio con i protagonisti e i 60 anni di sacerdozio li ha celebrati poco prima del suo ritorno della sua nascita al cielo Monsignor Vailati è morto nel 1998 quando era già arcivescovo emerito dunque nel suo diario troviamo questa frase 22 agosto 1997 60 anni di sacerdozio Deo Grazias mi volgo indietro tre seminari in cui sono state educato sei sommi pontifici da più undicesimo a Giovanni Paolo II quattro successori nella diocesi di San Severo vent'anni di episcopato Sipontino ricerco in vano tante persone care con quanti ancora amo penso all'altare della prima messa penso a Maria la madre benedetta di Gesù stella del mio mattino e luce del mio tramonto dunque lo sguardo verso Maria come diceva quel grande santo è sempre qualcosa che ci permette di essere certi di un sorriso da parte della Madonna e io credo Leonardo che anche il pensiero a Padre Pio ci fa essere certi che ugualmente abbiamo in questo momento anche il suo sorriso che ci accompagna si Maria vorrei anche aggiungere che nel lungo elenco di successione episcopale sulla cattedra che fu di San Lorenzo Majorano Valentino Vailati ha avuto il grande merito di introdurre la causa di beatificazione e canonizzazione di Padre Pio da Pietrelcina ma quel giorno per ritornare anche al 16 giugno del 2002 19 anni fa c'era un altro grande pastore di questa diocesi e parliamo di Monsignor Vincenzo D'Addario che purtroppo è salito al cielo ormai 15 anni fa 16 anni fa e in quel giorno è stato lui ad avere il grande onore di chiedere ecco come vuole anche la tradizione liturgica delle canonizzazioni al sommo pontefice Giovanni Paolo II di iscrivere nell'albo dei Santi proprio il beato Padre Pio da Pietrelcina dunque poi la storia è continuata con Monsignor Domenico D'Ambrosio che tu hai citato pastore della nostra diocesi dal 2003 al 2009 con Monsignor Michele Castore e infine con Padre Franco Moscone stavo per dire Monsignore deformazione professionale Padre Franco come tutti ben sappiamo ecco non ama questo titolo chiamiamolo onorifico Maria Pia però io ti restituisco la linea perché noi siamo tra pochi minuti in grado anche di avere il nostro primo ospite che mi stava chiamando al telefono però purtroppo impegnato con te con la diretta avremo qui con noi Matteo Pio Colella che è il bambino che è stato miracolato e grazie a questo miracolo Padre Pio è stato iscritto appunto nell'albo dei Santi quindi ti restituisco la linea ci vediamo tra pochi minuti grazie Leonardo dunque in attesa di tornare a collegarci io ti ringrazio ovviamente anche per tanti elementi che hai aggiunto io ripeto per conoscere meglio San Pio e anche le tante persone attraverso le quali la sua vita è stata meglio conosciuta e soprattutto portata anche formalmente alla santità potete andare agevolmente al sito edizionipadrepio.it di cui vi abbiamo presentato la novità proprio di questi giorni il diario spirituale di Valentino Vailati adesso però vogliamo pregare proprio con quella preghiera che Giovanni Paolo II in quei momenti ha scolpito per noi con tutta la sua intensità e tutta la sua sofferenza insegna anche a noi ti preghiamo l'umidà del cuore per essere annoverati tra i piccoli del Vangelo ai quali il Padre ha promesso di liberare i misteri del suo Regno aiutaci a pregare senza mai stancarci certi che il Dio conosce ciò di cui abbiamo bisogno prima ancora che lo domandiamo domandiamo ottienici uno sguardo di fede capace di riconoscere prontamente nei poveri e nei sofferenzi il volto stesso di Gesù sostienici nell'ora e nel compasimento della prova e se cadiamo fa che sperimentiamo la gioia del sacramento del perdono trasmettici la tua centenera devozione verso Maria Madre di Gesù il nostro accompagnici nel peregrinaggio in terreno verso la Patria Beata dove speriamo di raggiungere anche noi per contemplare in eterna la gloria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo sia lo dato Gesù Cristo avete visto dunque noi oggi avremo modo anche di ritornare ancora a Giovanni Paolo II al 16 giugno 2002 ma soprattutto al termine della celebrazione che seguiremo in diretta alle 11.30 dalla Chiesa San Pio avrete la possibilità di ripercorrere tutti i momenti più importanti della canonizzazione di San Pio quindi subito dopo la celebrazione eucaristica delle 11.30 adesso linea alla regia sono le 11 in punto come sapete come avete visto come certamente già state vivendo nel vostro cuore oggi è una giornata speciale per noi che amiamo San Pio e cerchiamo indegnamente di seguirne le impronte la giornata in cui si ricorda il diciannovesimo anniversario della canonizzazione che è un evento molto importante ma anche sostanzioso dal punto di vista formale avete visto e rivedremo dunque i 300.000 pellegrini solo a Roma ma come ha detto Giovanni Paolo II come lo ha fatto diventare realmente con le sue parole col suo potere di Pietro il santo lo ascoltiamo esattamente adesso ad honorem sancte et individue trinitatis ad exaltationem fidei cattolice ad vice christiane incrementum autoritate dominosti jesu christi peatorum apostolorum pezzi et pauli agnost masura deliberazione precabita e divina offre cefius implorata agde plurimorum ratum nostorum consiglia beatum fium e pietra e cina santum esce de seri us es de fium e cina e cina e cina Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quando lui è stato chiamato inizialmente diciamo che non era molto propenso perché non sapeva la vericidità della situazione di questo padre e di ciò che già si diceva. Per ben tre volte aveva rinunciato ma la terza volta ha accettato questo incarico. Quindi si è presentato e quando ha conosciuto personalmente i frati e padre Pio ha deciso comunque di essere il suo fotografo ufficiale. Dicevamo alcune delle foto che vedremo ora in onda sono attribuite, sono famosissime e sono attribuite a tuo padre. Anche la legge da questo momento, da questo anno in poi ha stabilito questo. Io ci tengo molto a questa cosa perché dopo tanti anni mio padre è morto prima di vedere padre Pio Santo purtroppo perché la sua idea era di vederlo santo con una sua immagine. Purtroppo questo non è avvenuto ma a Roma c'ero io e quindi la gioia immensa è stata vedere la foto di mio padre sulla basilica di San Nicola oltre che dappertutto. E quindi è stata scelta proprio una delle foto più importanti che lui ha realizzato proprio nello scontorno e nella realizzazione vera e propria della cartolina. Mio padre si chiamava Gaetano. Sì. Quando finalmente ho aspettato un maschietto perché la prima ho avuto femminuccia e il secondo maschietto. Ho detto chissà come lo devo chiamare nella mia mente. Praticamente c'è stata una cosa, mio padre mi ha detto lo devi chiamare Francesco Pio. Non esiste Gaetano, esiste Francesco Pio. E naturalmente è stato anche un atto che mi è successo, praticamente mia figlia che non aveva sentito niente di questo, che aveva appena sei anni. Un giorno mi dice mamma perché non chiami il bambino, il mio fratellino Francesco e io sono rimasta scioccata perché nessuno aveva parlato davanti a lei. Quindi questi sono piccoli particolari e piccoli segni. E dunque prosegue la nostra staffetta proprio con Leonardo Fania perché adesso siamo di nuovo collegati con lui che si trova nella nostra postazione della chiesa San Pio. Sì Maria Pia allora riavvolgiamo il filo dei ricordi in questa mattinata come promesso ho qui con me Matteo Pio Colella, il ragazzo bambino all'epoca. Allora innanzitutto grazie per essere con noi Matteo. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Il ragazzo bambino all'epoca dicevo che con il miracolo che ha ricevuto da padre Pio ha permesso che quest'ultimo venisse iscritto nell'albo dei Santi e che oggi venisse definito San Pio da Pietrelcina. Non che prima non fosse già santo nel cuore della gente però serviva il riconoscimento ufficiale della chiesa e grazie al miracolo che tu hai ricevuto questo è divenuto possibile. Lascio a te la parola Matteo, non voglio farti domande perché il tuo racconto è davvero molto molto bello. Sì vabbè diciamo che il mio racconto oramai è abbastanza conosciuto quindi io ho avuto una meningite fulminante, avevo sette anni, era a gennaio. ero a scuola quindi come tutti i bambini dell'epoca io non volevo andare a scuola perché sette anni preferivo stare a casa, guardare la televisione, giocare alla Playstation. Quella mattina non mi sentivo bene, mamma e papà mi hanno giustamente costretto ad andare a scuola, lì mi sono accasciato sul banco e poi mi hanno riportato a casa. Durante l'arco della giornata la situazione si è aggravata e di lì mi hanno portato in ospedale. In ospedale mi hanno indotto in coma farmacologico e durante questo coma che è durato ben 11 giorni ho avuto una complicanza di 9 organi. Ho sognato padre Pio, quindi ho sognato padre Pio che mi teneva la mano e mi disse che non mi sarei dovuto preoccupare. Insieme a padre Pio abbiamo fatto questo volo fino a Roma e a Roma entrammo in un ospedale, trovammo un bambino rigido sopra il letto, padre Pio mi chiese se avessi voluto guarirlo io, io gli chiesi come e lui mi disse con la forza di volontà. Insieme allungammo le mani su questo bambino e poi mi svegliai, probabilmente non mi svegliai subito dopo, mi svegliai dopo un po', però diciamo che la coincidenza fu proprio quella. Io non conoscevo bene padre Pio, cioè andavo in chiesa perché avendo 7 anni i bambini preferiscono più giocare con gli amici, mi portavano mamma e papà, però io ho riconosciuto questo frate, un frate con la barba bianca, col saio marrone e poi vedendo delle immaginette l'ho riconosciuto proprio in padre Pio. Ecco Matteo, a me fa paura, permettimi questo termine, vedere con quale naturalezza tu racconti questa vicenda che qualche giorno fa tua madre ospite di questo stesso programma, magari tu in stato incosciente non percepivi tutto quello che avveniva attorno a te, ma il dolore e la sofferenza dei tuoi genitori, dei tuoi parenti, dei tuoi amici erano davvero molto 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 forti. Il legame con padre Pio da allora è cambiato, tu hai detto che ovviamente un bambino di 7 anni fa fatica a riconoscere anche determinati aspetti della sua vita, però poi con quella guarigione che è successa è cambiato qualcosa. Sì, è cambiato qualcosa. Allora, la mia famiglia mi ha sempre protetto, quindi ha sempre cercato di farmelo vivere in maniera normale. Io poi questa figura, questo frate, l'ho sempre visto da quel momento in poi come un nonno, perché comunque era una figura, diciamo, tra virgolette paterna, che mi ha accompagnato in un periodo difficile. Io per un bel po' ho pensato di essere stato male solo una notte, quindi, diciamo, loro hanno cercato di far sì che non vivessi troppo male questa situazione, ma poi nell'andare avanti nei mesi, nelle settimane, negli anni, diciamo, ci siamo resi conto, mi sono reso conto di quello che mi è successo, però l'abbiamo sempre vissuto in maniera normale e come ho sempre detto, per me padre Pio è una figura che rappresenta una parte importante, perché senza, diciamo, il suo aiuto io non sarei qui, però lo vedo effettivamente come un nonno. Le immagini che stiamo vedendo nel nostro monitor, ecco, ci riportano al 16 giugno del 2002, tu in quel giorno ricevesti la prima comunione, è stato anche un altro bel regalo che, insomma, hai ricevuto. Sì, è stato un regalo bellissimo, perché io ricordo ancora oggi uscire su Piazza San Pietro e trovare tutta quella gente, per me era una cosa incredibilmente strana, perché nel 2002 avevo dieci anni, quindi non mi ero reso conto benissimo prima di quel momento di cosa stesse succedendo. Sapevo che avrei dovuto fare la prima comunione, sapevo, diciamo, che ci sarebbe stata questa grandissima manifestazione, ma era probabilmente molto più importante per i fedeli e per tutto, diciamo, l'ordine ecclesiastico che per il singolo Matteo Colella, che viveva quel giorno in maniera molto, molto, molto tranquilla e anche scherzosa, perché poi per, diciamo, per smorzare un po' la tensione, l'atmosfera, i miei parenti, mio zio, i miei genitori hanno fatto sì che ci si scherzasse anche su. È la leggerezza che, insomma, deve contraddistinguere la vita dei bambini e non caricare troppo, ecco, anche la responsabilità di quello che ti è successo. Passiamo avanti, 21 anni dopo Matteo, ora cosa fai, chi sei, come impieghi le tue giornate, hai studiato, insomma, raccontaci un po' di te. Allora, 21 anni dopo sono laureato in psicologia e passo le mie giornate facendo una terapia in acqua e fuori dall'acqua, che è la terapia multisistemica Caputo Ippolito, quindi per bambini con disturbo dell'ospetto autistico e col disturbo generalizzato dello sviluppo. Praticamente tutte le mie giornate le vivo insieme a loro e quindi faccio questa attività con loro. È un modo, ho iniziato quando avevo 15 anni, quindi come volontario, ho iniziato osservando, cercando di capire effettivamente tutto questo mondo cosa rappresentasse. Probabilmente negli anni con maggiore consapevolezza abbiamo pensato, ho pensato che fosse anche un modo per ringraziare. Io mi chiedevo spesso perché a me e perché ad altri no e adesso cerco di aiutare l'altro proprio per ringraziare per quello che ho avuto. Anche perché, scusami se ti interrompo, tua madre l'altro giorno diceva qui che prima di addormentarti, ecco, prima dell'evento della meningite, insomma, che ti ha costretto ad essere incosciente per tanto tempo, tu avevi espresso il desiderio di diventare ricco e con quella ricchezza aiutare anche gli altri. Quindi magari, ecco, la cosa si è traslata in maniera diversa, non la ricchezza materiale che intendiamo tutti, ma un altro tipo. Sì, io questa cosa è incredibile. Io prima di entrare in coma dissi voglio diventare ricco per dare tutto ai poveri. In quel momento fu una situazione che scioccò un po' il mio padre, tutti i medici, tutte le persone che erano in quella stanza con me. Negli anni ho dato maggiore consapevolezza a questa frase, a questa cosa che ho detto, ed effettivamente non è una ricchezza materiale, ma è una ricchezza umana, è una ricchezza sociale, perché poi molte volte chi soffre di questo disturbo ha difficoltà sociali, ha difficoltà a instaurare una relazione significativa con l'altro. Quindi poter aiutare l'altro forse è ricco, diciamo, di strumenti per far sì che ci sia un aiuto concreto per l'altro. E qual è oggi, diciamo, anche la caratterizzazione che in qualche maniera permette a te di avere qualcosa di diverso rispetto agli altri? Perché immagino ci sia un qualcosa in più che viene proprio da quello che ti è successo. Beh, io ho sempre detto una cosa, non sono diverso a nessuno, ho vissuto una grande esperienza, perché quello che ho vissuto comunque è una grande esperienza, ed è un grande dono, perché più che un'esperienza è un dono, io non sarei dovuto essere qui. E quindi non la vivo in maniera diversa dagli altri. Penso solo una cosa, che ogni mattina mi sveglio e devo ringraziare per quello che ho avuto, e perché molti purtroppo, soprattutto in questa fase di pandemia, non hanno ricevuto quello che ho ricevuto io. Quindi ringraziare e dare il mio contributo per far sì che anche gli altri siano bene. Non so se da studio abbiamo domande, altrimenti lascio la linea a Maria Pia. Ancora una volta sei stato esaustivo e ineccepibile, Leonardo. Direi che il tuo ospite posso semplicemente salutarlo e dirgli grazie, perché continua appunto a non risparmiarsi in tanti modi. Complimenti, buona vita e auguri. E allora Maria Pia, io lascio a te la linea, così tra poco ci ricollegheremo per partecipare alla celebrazione eucaristica, mentre ringrazio Matteo davvero di cuore per essere stato con noi, perché è un po' come dire restivo Matteo a concedersi alle telecamere, però per Padre Pio insomma l'effizione la fai, dai. Sì, sì, per Padre Pio si fa. Grazie, grazie Matteo. Grazie a te Maria Pia, studio. Grazie, perché è molto bello anche riscoprire nella nostra pagina dei pellegrini un fatto particolare, cioè che la gioia della giornata di festa del 16 giugno si è prolungata anche il giorno successivo. E pensate, potremmo anche fare, grazie a Paola Russo, una sorta di come eravamo. Vediamo. Signora, facciamo uno strappo. Da dove viene? È della di Lecce. Noi siamo proprio della provincia di Lecce Trepuzzi. Bene, signora. Siamo del gruppo di Padre Pio, della Dolorata, di Trepuzzi. Mi vuole raccontare le sue emozioni di ieri, signora? È un'emozione tremenda. Io sono stata già alla pianificazione di Padre Pio, il maggio del 99, ma questa emozione è stata più grande ancora. E poi oggi, oggi, ho visto proprio il papo da vicino. Per noi il Padre Pio lo portiamo nel cuore sempre. A noi e alla nostra famiglia. Bene, signora. Lei invece da dove viene? Da Tantanaro, da Tantanaro, da Tantanaro. San Gennaro, da Tantanaro, di San Gennaro. Da San Gennaro, abbiamo un gruppo fondato da 10 anni. Le sue emozioni di ieri, signora? È stata una giornata indimenticabile. Indimenticabile, però per noi il Padre Pio è diventato santo nel momento in cui il Papa, il 99, l'ha fatto la pianificazione il 2 maggio. Quindi per noi il Padre Pio già era santo. Ieri ci ha dato la conferma, però rimane sempre nel nostro cuore. E la storia più bella è stata oggi, stare qua dentro con il Papa e con gli ringraziamenti di tutti i gruppi. Signora, nonostante il caldo, nonostante la giornata torrida di ieri, ancora una volta la gente ha dimostrato questo grande amore per Padre Pio, vero signora? Molto, molto, siamo lì. Abbiamo resistito con tanto amore, tutti, tutti, il nostro gruppo. Va bene, non c'è il nostro gruppo. Bene, grazie a tutti quanti voi. Lei, signora, da dove viene? Vengo dalla provincia di Napoli. Un'emozione grandissima quella di lei. Ho pianto, ho pianto, io l'ho pianto sempre. Quindi lui deve pregare prima per gli ammalati, per tutti gli ammalati e per la pace nel mondo, nelle nostre famiglie, per tutti. Bene, grazie, grazie signora. Che bello, come eravamo, dove eravamo, in queste ore lo possiamo ripercorrere davvero. Intanto andiamo a tempi molto più recenti, grazie a delle foto che ci ha inviato Damiano Pascalicchio. È un gruppo piuttosto piccino, quello che vedremo tra un attimo, un gruppo di pellegrini, eccoli tutti giovani e sorridenti. Eppure era il 10 agosto 2020 e questo pellegrinaggio era offerto per il nonno di Damiano, che aveva conosciuto Padre Pio, ma che era morto proprio nel giugno dell'anno scorso. Quindi noi vi abbracciamo, vi ringraziamo per aver contribuito in questa giornata così speciale. Tra l'altro Damiano conosce bene Padre Pio perché ha anche notato che il 10 agosto è la giornata in cui Padre Pio è stato ordinato sacerdote. Quindi un altro elemento in più e potete continuare a contribuire al solito indirizzo Infochioccio alla teleradio padrepio.it Ecco qui anche la grafica, ancora una sosta a cura della regia. Tra pochissimo saremo nuovamente in San Pio, daremo la linea a Leonardo, ma soprattutto parteciperemo alla celebrazione eucaristica delle 11.30. Ma la celebrazione, la santa messa più importante della giornata è quella del pomeriggio, delle ore 18. Sarà presieduta dall'arcivescovo di questa arcidiocesi che grazie appunto alla canonizzazione di San Pio ha anche cambiato denominazione Manfredonia Vieste San Giovanni Rotondo. Come sapete, Padre Franco Moscone dal gennaio, per la precisione il 12 gennaio del 2019 è il pastore di questa arcidiocesi e oggi festeggia la sua ordinazione. 37 anni da presbitero, tanti auguri Padre Franco. Grazie a tutti. Grazie a tutti